Buongiorno e buon inizio settimana a voi tutti cari amici telespettatori di TRG. Questa edizione, prima edizione in diretta dell'informazione dalla nostra emittente di oggi, lunedì 2 novembre, giornata dedicata al ricordo dei nostri defunti. Andiamo subito con le prime pagine dei quotidiani che prendiamo in esame, il Giornale dell'Umbria, il Corriere dell'Umbria, la Nazione, il Messaggero. Oggi è lunedì, quindi come tutti i lunedì una parte molto più breve dedicata alle notizie e alla cronaca, anche perché i quotidiani quest'oggi come tutti i lunedì dedicano poca parte alle cronache locali, ma molta parte in più è dedicata allo sport. Quindi andiamo subito a vedere quelle che sono le notizie che troviamo nelle prime pagine, il Giornale dell'Umbria che apre anche quest'oggi con le cronache nazionali e internazionali. Su Turchia trionfa Erdogan, al partito del Presidente uscente la maggioranza assoluta di seggi, nelle strade esplode la protesta dei kurdi, incendi e barricate. Si parla poi dell'annuncio del numero uno dell'Inps ieri, Tito Boeri, alla trasmissione in mezz'ora di Lucia Annunziata, la proposta già formulata dal Governo, l'annuncio del numero uno, taglio del 50% ai vitalizi. Vedremo se riuscirà l'Inps, se riuscirà Tito Boeri a portare avanti questa proposta. Si legge nei particolari una riduzione del 50% per i vitalizi di oltre 80-85 mila euro l'anno, è quanto è stato detto, ma come si sa quando si va a toccare certi poteri è molto dura. Comunque speriamo che qualcosa si muova. Intanto un'altra gaff clamorosa del Presidente della Federazione Italiana Gioco al Calcio, Tavecchio, ancora figuracce, insulti contro gay ed ebrei, è polemica. La replica, non ricordo di aver detto quelle frasi. Non è la prima volta che il Presidente della Federazione Italiana Gioco al Calcio commette queste gaff clamorose. La prima pagina della Nazione Italia, minatata da Ibici, Tobruk, tre navi da guerra in acque territoriali, reagiremmo la difesa nega e Tripoli devastato il nostro cimitero. La Farnesina, gesto vile. Per quello che riguarda poi anche qui naturalmente la pagina internazionale, era la prima pagina, la prima pagina invece della parte della Nazione Umbria. La fiera, tradizione immancabile, ma spostatevi con i mezzi pubblici, inaugurate le tre location a Fontiveggi per rilanciare il quartiere. E poi SOS Borseggi, spariti 40 portafogli e da Pian di Massiano inviti di sindaco e assessore, primo giorno con una grande folla. Mangiano funghi velenosi, sei in ospedale, purtroppo in queste settimane non è la prima volta che accadono quelli fatti, acquisti illegali, ritirata a un compro oro, ultra leggeri in avaria, due feriti. Ex assessore vince in TV da Bolonis, premio di 28 mila euro. La fiera fa centro, il titolo d'apertura del Corriere dell'Umbria, invasa per il tradizionale appuntamento con le bancarelle, la cittadina di Perugia. E poi ancora, come dicevamo, allarme, funghi tossici fioccano i ricoveri. Se le vittime di intossicazione giunte all'ospedale di Perugia, appello dei medici alla cautela. Non mangiate i funghi che raccogliete o che vengono raccolti così solo dai vostri amici, ma fateli controllare gratuitamente alla ASL, fanno questi controlli. Mi raccomando, non rischiate per nulla, per solo un fungo, veramente si rischia moltissimo. Arriva la piedimetria, la città si fa più piccola a Foligno, nuova Piazza Gabriotti, finita la pavimentazione a Città di Castello. Ne parleremo più profonditamente, naturalmente anche quest'oggi, nei nostri TG di questa bellissima iniziativa ieri sera in Piazza Gabriotti, con veramente tantissima, tantissima gente e avremo dedicato anche, dedicheremo anche il plus di questa sera, alle 20.50 dopo i nostri TG, a questa iniziativa di ieri sera in Piazza Venanzio Gabriotti, a Città di Castello. Intitoliamo a MES via della Pergola a Perugia, poi ancora allarme dell'aeroporto, poi finisce bene, uno spiegamento di soccorsi in vista di un'emergenza, ma l'atterraggio è andato ok. Velocemente dalla spalla del Corriere dell'Umbria, lo Sport, Grifo punta forte su Zebli e il gol di Arde, Ferre dietro la lavagna, Gubbio e Foligno, Blitz con assalto all'alta classifica, pesante Campò del Castello in Toscana, Spoleto sesta sconfitta di fila, pari del Gualdo. Per il volley, dicevamo poi approfondiamo, la Sirsefti con il sbarco di Milano e di Mesa, un secolo di Azzero con la rivire, mercoledì sotto con la Coppa Cev a Perugia. Poi andiamo con la prima pagina regionale del messaggero, feriti sull'ultraleggero e SOS al San Francesco, paura nei cieli, due feriti e Gualdo Qualtanio, emergenza a Perugia. Acqua, batticuore per 80.000, deposizione causazionale sulle bollette, scatta la corsa per evitare di pagare, assalto agli uffici umbracque, nessuna tassa occulta e 69.000 utenti riavranno di indietro più di 50 euro. Notte di Halloween, ubriachi al volante, c'è chi rischia due anni senza patente, poi fiera di morti, subito un boom, tutti a caccia di calze e camice. Il bel tempo regge ancora all'angolo del meteo dal messaggero, domina il sole grazie a un vasto anticiclone sinonimo di bel tempo, qualche nebbia e completa assenza di fenomeni precipitativi. L'alta pressione tenderà sostanzialmente a reggere anche nei prossimi giorni. Questo per le prime pagine dei quotidiani. Andiamo ora all'interno dei quotidiani che prendiamo in esame, iniziamo con il giornale dell'Umbria, dove dicevamo Tito Boeri, i vitalizi vanno ridotti fino al 50%, il presidente dell'Inps, un problema non ancora risolto del tutto. Si parla poi anche dei 200.000 le persone interessate al taglio proposto al governo. Taveggio, scusate Tavecchio, contro gay ed ebrei è subito polemica. Il numero uno della Federcalcio. Non sono antisemita, ma è bene tenerli a base. O sessuali lontano da me. Tronchi in sedia in Campidoglio. Ieri pomeriggio la visita al verano, l'incontro col Papa. La minoranza Deme si interroga sul caso Marino e parliamo naturalmente di Roma. Fecontazione derologa al palo, non ci sono donatori. Ecco quali sono i motivi dello stop a Perugia e l'approfondimento per questo importante dato. Ma torniamo a parlare delle truffe agli anziani. Occhio nel mirino ancora agli anziani. Allarme dell'Unione Consumatori in diversi centri umbri. All'opera, i falsi addetti di luce e gas, non fate entrare nessuno nelle vostre abitazioni. Lo ripetiamo, lo ripetiamo, specialmente gli anziani. Non fate entrare nessuno in casa. Svincolo di scopoli. Leonelli, solletta, mozione bipartizzana, appello del segretario del PD, all'opposizione del fatto che sottolinei l'importanza della realizzazione. Il sole, bacia, la fiera, subito folla gli stand. Tre location per la Kermesse di inizio novembre che affonda le radici nel Medioevo. E con 3,50 euro si viaggia in mini-metro tutto il giorno. Cipolle, lumache, olio, farina e tartufo. Protagoniste, Expo, le aziende che fanno parte di Umbria Convivium hanno fornito i prodotti agli chef per gli show cooking. E l'allarme degli funghi velemosi sono se le persone che sono state ricoverate a Santa Maria della Misericordia stazionare le loro condizioni. Ma lo ricordiamo, nei giorni scorsi ce ne erano stati altri che erano ricorsi alle cure dei medici proprio per questo motivo. Questo per il giornale dell'Umbria che rivedremo tra poco con le pagine dedicate allo sport. Ma andiamo all'interno della Nazione. Io, direttore a costo ridotto, l'assessore Bartolini vuole affidarle la gestione dei provinciali e le replicare alle sindacati contro la promozione. E l'Irlanda, qui dai verdiniani all'interno liberale e qua in Umbria, potrebbe ben presto svilupparsi territorialmente anche in Umbria il movimento politico di Enes-Verdini. E sarebbe quindi proprio in Umbria, l'operazione dovrebbe essere tra i protagonisti, ex sottosegretario Marco Gianda, da sempre vicino, ex braccio destro, Silvio Berlusconi. Mangiano lunghi venosi, sei persone in ospedale, troverate una giovane famiglia. Non registra i clienti, sospeso un comprobis di polizia, rilevate, irregolarità. Siamo quindi assegnato il premio Federico Falchetti sul podio di una giovane imprenditrice, assisi riconoscimento a Elena Tortoioli dell'azienda Il Podere. E grande festa per la nuova piazza Gabriotti a Città di Castello, ultimato il recupero lavori da 350 mila euro. E tanta gente, come dicevamo ieri sera, al taglio del nastro. Gubbio, il pontefice, pregate per me, lettera di Francesco Aglie Ugubini, in una recente lettera inviata al vescovo Mario Ceccobelli, Papa Francesco sollecita anche i fedeli Ugubini a innalzare le preghiere in suo favore. Foligno, Miriam e Samuele alla corte di J-Ax, fratello e sorella nel cast di Sorci Verdi, Foligno e i baby attori sono apparsi in film di Sorrentino e Veronesi. Intanto a Gualdo, Gattaneo, atterraggio di fortuna per un ultraligero paura e due feriti. Questo per le pagine della Nazione. Andiamo con il Corriere dell'Umbria all'interno, con le notizie regionali e provinciali. Trasporti più efficienti e integrazione di servizi, la svolta è indispensabile. cuore unanime di comuni, sindacati, partiti, associazioni e comitati all'audizione voluta dalla seconda commissione del Consiglio regionale. Problemi di pressione sull'aereo, scattano i soccorsi, poi l'allarme li entra nel pomeriggio di ieri. Spiegamento di forze mezzi coordinato dalla questura dopo una segnalazione alla torre di controllo dell'aeroporto. Adozione in calo e colpa della crisi, tra difficoltà burocratiche e conseguenze della recessione, anche in Umbria diminuisce il numero dei minori accolti in nuove famiglie. Cavalli per lo sviluppo del territorio, progetto di grande respiro in Umbria, diventa reale l'idea di sistema. Andiamo con, ancora si parla di animali, quindi all'interno la fiera di morti è subito pienone, tra viaggio nelle tre sedi, e tour del sindaco fino a una piazza del bacio, ancora in attesa di visitatori, in centro storico spicca piazza Matteotti, trasformata in paese dei golosi. Occhio ai borseggi, comunque come dicevamo da parte della polizia. La città non scorda messi, intitoliamo a lei Via della Pergola, ottavo anniversario del delitto della studentessa inglese. La proposta lanciata su Facebook suscita un accelto dibattito e tanti dicono sì. Pericolo funghi tossici, sei ricoveri, operazione fantasma compro oro sospeso, il questore decide lo stop dell'attività per dieci giorni, sabato notte ritirate sei patenti a causa dell'alcol, e poi caso Geseno, le due discariche sotto la lente. L'UGL chiede un incontro a Romizzi. La pagina di Città di Castello, Piazza Gabriotti, torna a splendere, uno spazio di valore storico e sociale. Ieri la cerimonia di conclusione dei lavori, con tanto di fermonica, a cui ha presenziato il sindaco Luciano Bacchetta. Un intervento di pregio nel rispetto delle origini. Ecco partner e bagarre sull'aumento dei rifiuti, iscrizioni aperte intanto per gli scrutatori alle elezioni, e nella ricerca contro il cancro scatta la mobilitazione generale, anche a Città di Castello, iniziative nelle scuole e in piazza. E come avevamo annunciato anche sul nostro sito internet nei giorni scorsi, la famiglia dell'anziana scomparsa ringrazia tutti per il grande supporto. La donna Ada Capaccioni, detta Dina, che è stata purtroppo ritrovata senza vita, lo avevamo anticipato sul nostro sito internet www.trgmedia.it proprio nella mattinata di sabato, il ritrovamento della povera donna, ritrovata a circa 7 chilometri dal luogo dove si era perduta. La città si fa piccola con la piedimetria, è l'ultima proposta dell'associazione che moda fa, muoversi a piedi sapendo quanti minuti ci vogliono per andare da un punto all'altro. Patto dei Rotari con Spoleto e Bevagna, intanto brusco atterraggio, due in ospedale, a Gualdo, Cattagno. Controlli e multibastagli, vandali, la pagina di Spoleto, assessore Campagnani, annuncia una stretta per verifiche, domenica 50 volontari al lavoro per ripulire la città. Concludiamo la nostra prima parte con il messaggero. Fieri morti, subito assalto per comprare calze e camicie, clienti anche da fuori città, borseggiatori in azione, volo da Tirana, tutto viene alla fine, acqua batticuore per 80.000 utenti, deposito emozionale, Umbriaco spiega la partita bollente. Gubbio, San Cipriano, divorato dall'erbati, castello abbandonato mai da tempo e lasciato nel degrato, la struttura risale al 1600, citata nel testamento di Nobili e Ugubini. all'interno i resti enormi saloni, una scalinata imponente, stucchi, porti incognizziati in marmo, i balaustre di stile barocco. Castello, la messa nel tendone del circo, l'evento, la messa di Gionni Santi, Paolo Giuseppe Rosati, ama definissi nomade di Dio, rinunciate un po' ad internet, venite qui le sue parole. Incidente in atterraggio, paura per un ultraleggero, feriti il pilota e la giovane passeggera, pesanti danni al piccolo aeroplano, l'uomo ha i comandi, un ufficiale dell'esercito, il gestore della pista, è stata colpa del vento. Sulla riorganizzazione della CGL Estriglia, il comune a Spolento e poi caduti e forze armate, tre giorni di celebrazioni. Andiamo con la pagina. Bene, allora terminiamo qui questa nostra prima parte della rassegna stampa, ci fermiamo solo per qualche spot pubblicitario, subito dopo le pagine sportive che come ogni lunedì sono naturalmente più ricche. A tra poco.